L'UAAAmericansi La Cristina Adesso come sempre io voglio dedicare quindi inizio diciamo ufficiale a tutte le e belle signore alle minili che sono state, oggi pomeriggio, amiciati al barnuchiere, per farci capire ricci, ricci, ricci la donna è foundational Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.